Musica Ben ritrovati con questo nuovo appuntamento con Azzurra Sport Oggi parliamo di basket, volley e motori Riapriamo con il bilancio relativo all'annata 2016 del rally che ha avuto in caffoni e giudici i suoi principali protagonisti Il 2016 dei rally è stato appassionante con tre manifestazioni di alto livello organizzate sulle strade del nostro territorio Tutti alquanto partecipate sia dal punto di vista degli equipaggi al via sia dal punto di vista di un grande pubblico nei tratti cronometrati Il primo dei tre appuntamenti è stato nel mese di marzo il rally due laghi organizzato dalla new turbo marca di Pepe Zagami Dieci speciali con il ritorno della PS all'usentino tanto piaciuta Una gara che si è aperta con un clamoroso colpo di scena Il favoritissimo Davide Caffoni con Max Minazzi a bordo della sua Clio R3C si cappotta nella speciale di Calasca e chiude anzitempo la sua gara A sfruttare al meglio il suo ritiro è Andrea Giudici che con l'esperta Anna Fatichi sulla Clio Super 10006 hanno vinto due speciali tra cui la Montecrestese affrontata da Roledo ed hanno saputo parare i colpi degli avversari vincendo il rally Una soddisfazione, la prima differenza della sua navigatrice per Giudici che ha vinto molto, che il pilota a due mese ha meritato appieno Giugno è stato il mese del rally Valle Ossolane che resta la più bella festa dei motori del nostro territorio con le sue 52 edizioni pregne di storia e di campioni Chi può aver vinto se non Davide Caffoni? L'essersi girato di tetto al due laghi non gli è andato troppo a genio ed allora al due mese, degno successore di tanti e tanti piedoni da rally alla guida della Ford Fiesta R5 ha vinto sei speciali su otto in programma centrando il suo terzo valli consecutivo Ammar ha malgeggiato nelle due prove del sabato la Zornasco dedicata al pilota di Formula 1 Giul Bianchi scomparso mesi dopo un incidente a Suzuka nel 2014 e la prova spettacolo Vici Orelli a piedi mulera mentre nella lunga domenica del Valle ha parato i colpi di Pinzano e Zegna nella prima a Crotomozio e nella spettacolare speciale in Cannobina vincendo poi tutte le altre quattro prove tra Fomarco, le due a Urano e l'ultima a Cannobina in classifica Davide Caffoni e Mauro Grossi dopo il ritiro di Pinzano unico vero avversario credibile alla vigilia dell'ultima prova speciale hanno rifilato 57 secondi a Margaroli Dresti e tre minuti e mezzo a Bestetti e Nicastri ultimo rally del 2016 sulle nostre strade il rally del Rubinetto a ottobre ed è ancora Davide Caffoni a vincere questa volta con Minazzi anche in questo caso il Domese ha vinto 6 prove su 10 e ancora un successo nonostante un indomito Simone Miele con Mometti che ha lottato col coltello tra i denti vincendo tre speciali ed è ottimo secondo davanti ai sempreverdi Canella e Gria la palma del più sfortunato del 2016 va certamente a Corrado Pinzano che anche a Rubinetto si è dovuto ritirare addirittura per una ruota persa in pieno trasferimento del 2017 si ricomincia con il Due Laghi il 9 aprile il 53esimo Vaglio Solane il 10 e 11 giugno e con la rally del Rubinetto del 22 ottobre Siamo al volley giovedì in calendario l'andata dei quarti di finale tra Unet Yamamai Busto Arsizio e Igor Novara il pre-partita in Casa Biancorossa nel prossimo servizio Inizio di 2017 tutto dedicato alla Coppa Italia giovedì 5 e domenica 8 sono in programma i quarti di finale con la Unet Yamamai Busto Arsizio impegnata nella derby del Ticino con la Igor Gorgonzola Novara Per la partita di andata in calendario giovedì dalle 20 e 30 al Pala Yamamai le farfalle di coach Mencarelli proveranno a far valere il fattore campo in vista del match decisivo di domenica alle 17 al Pala Igor La formazione bianco-rossa si presenta all'appuntamento ancora una volta non al meglio dal punto di vista fisico oltre all'assenza di Vasilan Tonaki e alle condizioni precarie di Martinez out negli ultimi due match ufficiali sono da valutare anche le condizioni fisiche di Valentina Diuf che si sta allenando a scartamento ridotto a causa del noto problema alla schiena che la sta notevolmente limitando mentre la Juve ha dunque seri problemi per allestire la propria linea offensiva dall'altra parte della rete Fenoglio dovrà sciogliere il dubbio Cambi di Chema in regia ma non dovrebbe presentare novità rispetto all'ultima gara di campionato dello scorso 26 dicembre vinta proprio contro Pisani e compagne per 3 a 1 sul Tarafax dell'impianto di Viale Gabardi dovremmo dunque vedere Barun nel ruolo di opposto Piccini e Plac in banda Chirichella e Bonifacio al centro Sassonna libero Unit Yamai Busto Arsizio ricorda che la partita è fuori abbonamento ma che sono previsti prezzi speciali per gli abbonati prevendite sempre aperte su www.volleybusto.com slash tickets.php e nei mille punti vendita booking show biglietterie aperte dalle ore 19 anche per i tifosi ospiti la partita sarà in diretta streaming come di consueto sulla piattaforma della Lega Volley Femminile domani sera invece si gioca in Serie B di basket alle 20.30 al Palaracani la Vina Vilcipira affronta la Virtus Siena alle 21 invece al Palamico derby tra Mami e Paffoni in Serie B si torna sul parquet mercoledì per la 14esima e penultima giornata del girone d'andata al Palamico di Castelletto Ticino alle 21 si gioca il derby tra la Mami e la Paffoni confronto inedito a questi livelli e mai visto se non inamichevole negli ultimi vent'anni Omenia ci arriva sull'onda emotiva delle otto vittorie nelle ultime nove giornate e con il primato in classifica ma la squadra dell'ex Franco Passera per qualche mese sulla panchina dei Cusiani nella stagione 2003-2004 dopo l'esonero di Garetto vuole fare lo scherzetto alla prima della classe per entrambi gli allenatori qualche problema legato ai mali di stagione ma alla fine dovrebbero essere tutti abili ed arruolabili partita che avrà anche un risvolto benefico con il tè di Birtos al primo canestro del match gli spettatori lanceranno sul parquet i peluci che saranno poi portati a casa Alessia Onnus mezz'ora prima alle 20.30 scenderà sul parquet del Palaracagni la Vina Vilcipir Domodossola che affronterà la Virtus Siena in un incrocio di grande importanza per la lotta a salvezza al Palaracagni dunque la Vina Vilcipir Domodossola ha l'occasione di compiere un altro passo verso le zone più tranquille della classifica iniziamo l'anno ospitando la Virtus Siena con pagine che ci precede di due punti in classifica e come noi ne ho promossa dove il nostro Corrado ha svolto tutto il percorso di settore giovanile Siena, spiega coach Fioravanti ha cambiato pochissimo rispetto alla squadra che ha ottenuto la promozione allenata da coach Francesco Bracagni troviamo i playmaker Simone Leonardon leader della squadra e Francesco Bonelli nel reparto esterni ci sono l'altro ex di giornata Federico Bianchi Gianmarco Leia Alessandro Nepi il giovane Matteo Neri e il probabile rientro di Gerlando Ebro i lunghi sono Ferdinando Nasello Lorenzo Bruno arrivato da Livorno e concittadino di Luca Falconi e Gabriele Mirone in trasferta per la Virtus cinque sconfitte ed una sola vittoria nel derbito scano a Piombino sugli altri campi spicca il derby toscano tra la Fiorentina e Montecatini che ha perso il recupero la scorsa settimana sul parquet di Moncalieri ed è ad oggi la grande delusione del campionato e questa sera torna baschettando ospiti e contenuti della prima puntata dell'anno dalla Ford di Arona nel prossimo servizio nuovo appuntamento con baschettando il primo dell'anno sarà una puntata in versione ridotta visto che non si è giocato recentemente l'ultima partita ben prima di Natale però domani si torna sul parquet con il derby con il Teddy Bertos del Palamico tra la Mami e la Paffoni e con la sfida tra Domo e Siena alla Pallaraccagni ne parliamo qui alla Ford di Arona con il vice allenatore della Paffoni Michele Belletti ciao Michele buonasera a tutti come sta la squadra sta bene sta bene siamo carichi per il derby con Omegna con noleggio insieme a Michele Shaq Illidago ciao Shaq buonasera a tutti ciao dunque una partita che esula da qualsiasi pronostico una partita tra due squadre che nel corso di questo girone d'andata sono cresciute molto sì sì sarà una partita non so equilibrata perché loro ovviamente sono primi in classifica noi dovremmo fare di tutto per metterli in difficoltà diciamo perché non dobbiamo dare niente più a scontato quanto c'è di passera nella crescita della Mami? è tanto perché lui è bravo soprattutto con i giovani ci sta dietro tanto secondo me c'è tanto lavoro e c'è ancora lavoro da fare però è veramente bravo con i giovani insieme a Miche e a Shaq abbiamo il presidente del college basket Borgo Manero Luca Negri ciao Luca buonasera a tutti dunque nel 2017 l'augurio è che possiate ripercorrere le orme del 2016 direi sicuramente il 2016 è stato positivo come lo era stato anche il 2015 speriamo di ripeterci obiettivo finale nazionale con varie squadre diciamo così sì varie squadre vedremo ecco comunque il nostro obiettivo ormai è sempre solo finali nazionali quindi di questo e molto altro parleremo qui a Baschettando e noi siamo ai saluti per tutti gli aggiornamenti www.tuttonotizie.info grazie per essere stati con noi buon proseguimento con i nostri programmi grazie per la visione